Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 panoramica è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento per la direttissima e Aglio verso Firenze fino alle 18 per lavori. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, rallentamenti per lavori tra Capanne e Castel del Bosco in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Bettol riduzione di carreggiata per lavori tra Serre di Rapolano e Armaiolo in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori tra Stagno e Quercianella in direzione Roma, chiusi gli svincoli di Porta a Terra e Livorno Centro. Sulla statale 3 Bis Tiberina, tratto chiuso per lavori tra Pieve Santo Stefano Sud e Madonnuccia Poggiolino. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!